Benvenuti in questo video. Oggi parliamo del potere della dieta ipercalorica. Come funziona? In questo video scoprirete tutto sulla dieta ipercalorica, come funziona e come può essere di aiuto per la vostra crescita muscolare. Il principio è semplice. Più energia consumi, più energia hai bisogno per recuperare e crescere. La dieta ipercalorica è ideale per chi fa un allenamento intenso e vuole aumentare la massa muscolare. Ma è importante ricordare che non tutte le calorie sono uguali. Se consumate solo dolci o fast food, non otterrete i risultati desiderati. Il tipo di cibo che scegliete è fondamentale per garantire che il vostro corpo riceva tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Durante una dieta ipercalorica dovreste mangiare più proteine per sostenere la crescita muscolare. Un esempio di un pasto ipercalorico potrebbe includere il pollo, il riso integrale e le verdure. È importante fare regolari controlli per assicurarsi che la vostra dieta stia funzionando. Ricordate, tuttavia, che il vostro corpo ha bisogno di tempo per adattarsi a una nuova dieta. Inoltre, la dieta ipercalorica deve essere combinata con un programma di allenamento adatto. Avere un buon riposo è altrettanto importante quanto la dieta e l'allenamento. Infine, consultate sempre un nutrizionista o un dietologo prima di iniziare una nuova dieta. La dieta ipercalorica può essere una parte fondamentale del vostro percorso verso un corpo più forte. Con la giusta guida e un'adeguata attenzione alla vostra alimentazione potete ottenere grandi risultati. Speriamo che questo video vi abbia fornito una comprensione di base di come funziona la dieta ipercalorica. Ricordate, la chiave per un buon successo è la costanza. Quindi iniziate la vostra dieta ipercalorica oggi e vedrete i risultati in poco tempo. Ti voglio ricordare che se sei interessato ad approfondire i segreti di una dieta ipocalorica nel modo giusto, puoi scaricare la nostra guida in pdf per quanto riguarda la dieta chetogenica potenziata all'interno della quale troverai anche informazioni e menù d'uso per la dieta ipocalorica. Trovi il link in descrizione. Bene, in questo video abbiamo parlato di dieta ipocalorica che non significa mangiare senza confini, ma significa semplicemente equilibrare un maggiore apporto di proteine e un diverso contributo di carboidrati soprattutto per persone che consumano molto carburante energetico, ovvero sportivi, o persone molto attive. Ma cosa succede al nostro corpo quando le cellule bruciano carboidrati per produrre energia? La nostra vita è alimentata da un unico processo, la produzione di energia. Questa è la forza che alimenta ogni singola cellula del nostro corpo. Il corpo umano è una macchina incredibilmente efficiente. Riesce a sfruttare al meglio ogni risorsa a sua disposizione, compresi i carboidrati. I carboidrati sono tra le principali fonti di energia per il nostro corpo. Ma come avviene questo processo? Come viene prodotta energia dai carboidrati? Il processo inizia con la digestione. Quando mangiamo, i carboidrati nel cibo vengono frantumati in zuccheri semplici, principalmente glucosio. Questo glucosio viene poi assorbito nel flusso sanguigno e trasportato alle cellule del corpo. Le cellule del corpo poi assorbono il glucosio dal sangue e lo utilizzano per produrre energia. La produzione di energia avviene attraverso un processo chiamato respirazione cellulare. La respirazione cellulare è un processo che avviene all'interno delle cellule, specificamente nei mitocondri. I mitocondri sono come le centrali elettriche delle cellule. Sono responsabili della produzione di ATP, la principale forma di energia utilizzata dalle cellule. L'ATP è prodotto attraverso una serie di reazioni chimiche che coinvolgono il glucosio e l'ossigeno. Questo processo inizia con la glicolisi, dove il glucosio viene scomposto in molecole più piccole. Queste molecole più piccole entrano poi nel ciclo di Krebs, una serie di reazioni che producono ancora più ATP. Una parte importante del ciclo di Krebs è la catena di trasporto degli elettroni. Qui, gigli elettroni vengono trasferiti da una molecola all'altra, rilasciando energia. Questa energia viene poi utilizzata per produrre ancora più ATP, la moneta energetica della cellula. Ogni molecola di glucosio che entra nel ciclo di Krebs può produrre fino a 38 molecole di ATP. Ma la produzione di ATP non è l'unico risultato della respirazione cellulare. Questo processo produce anche anidride carbonica e acqua, che vengono espulse dal corpo. Con tutte queste reazioni chimiche complesse che avvengono, potrebbe sembrare che la produzione di energia sia un processo laborioso. Tuttavia, la bellezza di questo sistema è la sua efficienza. Il corpo umano ha affinato questo processo nel corso di migliaia di anni di evoluzione. Ogni singolo passaggio è stato ottimizzato per produrre la massima quantità di energia con il minimo sforzo. Ecco perché la dieta ricca di carboidrati e proteine è così importante per la nostra sopravvivenza. Fornisce al corpo l'energia necessaria per funzionare. Ma ricordate, come per tutto, l'equilibrio è la chiave. Troppi carboidrati possono portare a problemi di salute. La prossima volta che morderete del pane fresco o una fettina di carne, pensate a tutto il lavoro che le vostre cellule stanno svolgendo. Stanno lavorando sodo per convertire quei carboidrati in energia, alimentando ogni singola cellula del vostro corpo. E questa, amici miei, è la meravigliosa biologia che sta dietro alla produzione di energia bruciando carboidrati. Grazie per aver guardato questo video, che ricordiamo che se questo video ti è piaciuto puoi condividerlo. E se ancora non hai fatto puoi iscriverti al canale in modo da ricevere i prossimi video. A presto!